Musica Musica Allora, ci occupiamo oggi di una riflessione sulla lavanda dei piedi tratta dal Vangelo di Giovanni e ci chiediamo come trasformare l'orto chiuso della nostra casa, esposta al conflitto di coppia, esposta alle critiche reciproche, in un giardino. In un giardino dove la diversità dei fiori possa essere motivo non di competizione, ma una risorsa buona che ci chiama a fare un passo avanti. Ecco, vorremmo partire da un'accessione molto comune del lavare i piedi. Quante volte ciascuno di noi ha preteso di lavare i piedi all'altro? Cioè, nella traduzione spontanea che ci può venire in mente è correggere i difetti dell'altro. Io ricordo una volta mia sorella che diceva, ho fatto uno shampoo a mio marito per dire, ho fatto non solo il lavaggio dei piedi ma della testa e se era possibile anche tutti i bagni. Cioè, ecco, correggere, questa è l'accessione comune del lavare i piedi all'altro, è una correggione fraterna anche un po' pepata. Però chi intende così la lavanda dei piedi sostanzialmente si mette un gradino più in alto. Vuol fare come il maestro, il quale però tra l'altro ci ha chiesto di lavarci i piedi reciprocamente. Ma credendo di avere poi magari anche il diritto alla gratitudine, perché siamo ben capaci di distorcere il significato ultimo della parola. Ti lavo i piedi, ti correggo i tuoi difetti e non mi ringrazi neanche? Vedo i tuoi piedi impolverati, stanchi e magari con qualche piaga, lasciateli lavare da me. Certo, forse le intenzioni sono buone, ma forse sto dimenticando qualcosa. Sto dimenticando che ancora prima di lavarti i piedi, forse dovrei ringraziarti che i piedi li hai e che quei piedi ti hanno portato fino a me. Invece io mi armo dell'asciugatoio e gli do una bella lavata, poi mi sento buono, mi sento grande. Ecco, certi perdoni di coppia avvengono proprio in questo clima e si concludono anche con tutta una serie di basta che e giù condizioni su condizioni. E l'altro resta davanti a me come uno che mi deve essere grato, perché io gli ho fatto questa bella correzione fraterna. e tante volte chi la fa non si ricorda di quando mai ne ha ricevuta una e che cosa ha provato lui, di quando si è lasciata lavare i piedi. Ricordo una signora che diceva ma che colpa ne ho io se faccio tutto giusto? E' lui che non si corregge mai. Ecco, per esempio, siamo all'interno di questa relazione di coppia in cui lei credeva, poverina, di essere costretta a lavare continuamente i piedi a lui. Ma che linguaggio sponsale sarebbe mai questo? Ci siamo consegnati gli uni agli altri come giudici? Giudici, magari soletti, anche buoni, ma sempre giudici? Insomma, questa parola deve pure andare d'accordo con le altre parole. Ad esempio, non giudicate per non essere giudicati. Dato che appartengono tutte e due allo stesso corpo biblico, dovranno pure essere messe assieme. E in ogni caso, anche questa parola vale anche per gli sposi, per noi sposi. Allora, vorremmo provare a leggere con un atteggiamento più scientifico il testo di Giovanni della Lavanda dei Piedi, raccogliendo nel commento che cercheremo di fare alcuni indissi che allarghino l'orizzonte del nostro orto, perché il nostro orto finisce con l'essere asfittico se non ci lo immettiamo nella vita relazionale del giardino che ci dipenge la scrittura. Come mai il Maestro e Signore lava i piedi ai Suoi e chiede che facciano altrettanto? Sentiamo la parola. Giovanni 13, 1-15 Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone e Scariotta, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù, quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno? Gli rispose Gesù, se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse non siete tutti puri. Quando ebbe lavato loro i piedi riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato l'esempio infatti perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Per interpretare lo spessore simbolico di questo testo ci vengono incontro alcuni indizi che adesso metteremo a fuoco e soprattutto ci viene incontro la reazione di Pietro che non capisce e quindi ci aiuta nel processo di comprensione ad avvicinarci a questo linguaggio di Gesù. Il primo punto, il primo indizio è la premessa. Il gesto di lavare i piedi qui è preceduto da tutta una serie di premesse solenni, altissime, che chiamano in causa il cielo e la terra. Colui che sta per lavare i piedi è uno pienamente e veramente cosciente di ciò che fa, sapendo che è raggiunta la sua ora. È uno che ha offerto credenziali di amore lungo tutto il percorso della sua vita, credenziali che adesso porta a compimento, li amo fino alla fine. È uno che sta facendo testamento. Infatti gli esegeti osservano che da qui iniziano i discorsi di addio. Infine è uno che è assolutamente signore e sovrano, che non manca di nulla, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle sue mani. Un secondo punto che ci viene incontro è la sequenza. È come l'Evangelista muove la macchina da presa. La muove potremmo dire all'allentatore e ci sono passi presi uno per uno che diventano una sequenza mistica, quasi sacra. Provate a sentire. Si alzò da tavola, depose le vesti, prese la siugamano, se lo cinse attorno alla vita, poi verso l'acqua nel capino. Il nostro esegeta Pietro coglie subito che si dice qualche cosa che non va e vorrebbe fermarlo e comincia un dialogo tra lui e Gesù. Signore, tu lavi i piedi a me. Si dice, e come ti viene a passarti ad un gesto simile? Perché non tieni le distanze? Pietro è spaventato, spaventatissimo. E' come se dicesse, se tu, signore, tieni le distanze, mi rassicuri delle mie piccole fughe, del mio poter tenere qualche cosa per me, dei miei piccoli diritti, ma se tu mi onori con il lavarmi i piedi, se tu ti metti al mio livello, ti metti persino sotto di me, come uno che serve, allora tutte le mie categorie salvano. Saltano, saltano. E' il caso di dire, non c'è più religione. Infatti, quando un invitato importante arrivava in una casa in Palestina e aveva percorso le strade polverose della Palestina, un servo, e non certo il padrone, gli lavava i piedi, come gesto di onore, che significava l'importanza e la dignità dell'ospite. Quindi Pietro è legittimamente sconvolto. Nel dialogo però Gesù gli dà una risposta che manda in confusione ancora di più. Pietro, se non ti laverò, non avrai parte con me. Allora Pietro ci aiuta. Ci aiuta perché capisce male. E perché anche noi capiremo male così. E anzi, credendo di aver capito, sembra sollevato. Ah, dice Pietro, ho capito, stai facendo un rituale di purificazione per renderci degni di stare con te a tavola. Guarda, beh, allora se è un rituale di purificazione, lavami pure anche il capo, la testa, tutto quello che ti pare, perché io a tavola con te ci voglio stare. Ma Gesù, Nisma, aggiunge qualche cosa di misterioso. chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi. Ci sono degli esegeti qui che dicono che lavarsi se non i piedi non appare in tutti i manoscritti. E quindi, in ogni caso però, il significato di questa roba è abbastanza chiaro. Non è questione di igiene, non è questione di pulizia, non è questione nemmeno di purificazione. Tant'è vero che lui dice voi siete già mondi. Ma non tutti. Allora, a questo punto non ci resta che essere spiazzati e confusi come Pietro. Mondi non significa certamente impeccabili, senza difetto, senza peccato. Quelli a cui lui lava i piedi fra poco lo abbandoneranno. Ma allora qual è il significato di questo gesto di Gesù? così con questa premessa, con queste azioni a rallentatore, così fragoroso nel lasciare stupiti tutti quelli che l'ascoltano. Diremo che solo lo sposo poteva inventarlo, dando al suo gesto un valore simbolico, profettico, e nel contempo un valore di motore del nostro agire tra sposi, come vedremo tra un momento. Gesù inizia, sapete ciò che vi ho fatto? Sapete che il ripeterlo tra voi è la condizione, l'unica di prendere parte con me? Io vi ho onorato come miei ospiti privilegiati. Io, Signore Maestro, mi sono messo a servirvi. Io non giudico la mia sposa comunità, non la voglio sistemare, mettere a posto. La onoro e la servo. La metto quasi più in alto di me. Tanto la contemplo e la amo. E non con le fette di salame sugli occhi, perché so benissimo quanto sia fragile, so benissimo la sua inaffidabilità e insieme il suo desiderio di amarmi. Fatelo anche voi, sposi. Servitevi gli uni gli altri, onoratevi io vi ho dato il modello. Ecco allora il prototipo, il prototipo che viene immediatamente calato come meta nella relazione esponsale. Potremmo dire così, quando lui è in casa la sera, tu, moglie, lavagli i piedi, cioè onoralo perché è giunto fino a te. Guardalo negli occhi, spia con amore le piccole ferite della sua giornata, i piedi che il mondo gli ha impolverato e mettiti a servirlo. Mettilo sul trono di Signore, non seppellirlo subito con le tue lagne sui bambini che non ti hanno lasciato vivere o delle telefonate di sua madre che non ti hanno lasciato in pace. dice e quando tu marito incontri lei dopo la vostra giornata di lavoro lava i piedi, cioè onorala come tua regina. Non guardare prima se c'è in casa qualcosa che non va, se le cose non appaiono secondo i tuoi desideri e se magari sul gas non c'è ancora niente. Non giudicarla, ma dedicati a lei come se fosse sola nel tuo orizzonte, come se esistesse solo lei da coccolare e da servire. Non la servi puntando il dito su quello che non va, ma celebrando il vostro incontro, pulito dalla polvere della strada, pulito da ciò che si è incrostato sopra e che nessuno dei due voleva. È che avete camminato e vi siete infancati. Ora non vi resta che servirvi a vicenda. Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Ma come servirvi da sposi? C'è un approfondimento, c'è un altro punto che ci porta ancora oltre e l'indizio stavolta è nel linguaggio, nella alternanza di quel depose le vesti e poi nel riprese le vesti, che è una specie di linguaggio sponsale per eccellenza. Passa attraverso la strada della passione e della risurrezione. Proviamo a vedere. deporre le vesti significa equivale a perdere la propria vita. Perderla non a parole né con le belle intenzioni ma perderla con un semplice vieni prima tu che è la cifra della nozialità. Perdere la vita come ha fatto lui non trattenendo nulla per sé ed in piena coscienza volontariamente liberamente il che non significa spontaneamente e senza sforzo. Solo chi perderà la propria vita la ritroverà ma la ritroverà nuova e moltiplicata. Quindi lo sposo e la sposa che avrà amato perdendo la propria vita si accorgerà che non ha amato semplicemente lui o lei ma che avrà diffuso amore per il mondo e nel mondo perché si converta e viva. Questo dice Gesù aver parte con me nel riprendere le vesti che è la risurrezione dopo averla deposto alle vesti che è la passione e partecipare nel suo complesso ad essere servo per amore. Allora soltanto la scoppia scopre che in questo servire ci può essere il perdono dato e ricevuto. Perdonare e accettare il perdono come uno che serve è il vero e reciproco lavarsi i piedi gli uni gli altri che trasforma il nostro orticello nel pezzo di paradiso trasforma il nostro orto nel suo giardino. o l'escrivito Grazie a tutti.